Gianni Golfera, lughese di nascita, è diventato famoso a livello nazionale e internazionale grazie al metodo Golfera, strategie di memoria. Numerose le sue apparizioni televisive in programmi di grande ascolto, fino a quando, agli inizi di maggio, dopo la partecipazione alla trasmissione Il Senso della Vita, tutto è cambiato. Striscia la notizia lo ha accusato di essere un imbroglione e di utilizzare banali trucchi da apprendista prestigiatore per dimostrare le sue capacità mnemoniche. Mi chiamo Gianni Golfera e mi occupo di memoria. Io insegno alle persone come ricordare di più, ricordare più facilmente, dando così la possibilità a chiunque di ricordare un libro, di imparare una nuova lingua, oppure più semplicemente di ricordare i nomi delle persone. Tutto questo porta dei vantaggi concreti nello studio, nel lavoro e nella vita. Sei stato protagonista anche di una puntata del Senso della Vita. La conseguenza è stata che Striscia la notizia si è scatenata contro di te. Ti sei chiesto il perché? Me lo sono chiesto e francamente era difficile trovare una risposta in prima battuta. Poi ho scoperto che c'è una rivalità tra Ricci e Bonolis. Non credevo che Striscia la notizia arrivasse a montare un servizio falso, perché poi abbiamo dimostrato che le accuse sono totalmente false. Per fortuna il mondo scientifico, che è sempre stato dalla mia parte, ha dato ulteriore conferma di stare dalla mia parte. Abbiamo anche pubblicato le interviste sul sito metodogolfera.com, in modo in maniera che le persone che vogliono capire possano avere una risposta esaustiva a ciò che è accaduto. Un'altra possibilità, seppur è triste dirlo, potrebbe essere quella di aumentare gli ascolti e quindi usare qualsiasi stratagema purché le persone guardino questo programma. E adesso cosa accadrà? Adesso accadrà quello che è accaduto negli ultimi 15 anni, cioè io continuerò a fare tutti i miei eventi per il miglioramento della memoria, tra cui corsi introduttivi gratuiti per tutte le persone che vogliono imparare come memorizzare meglio. E continuerò naturalmente a presentare i libri sulla memoria e anche a fare corsi, quindi tutto andrà esattamente come è sempre andato. Striscia ti ha, diciamo, accusato, ma prima raccontavi in conferenza stampa che in realtà delle persone che hanno seguito i tuoi corsi, cioè 13.000 persone, tutte sono rimaste soddisfatte. Esattamente, tutte tranne una, che è una ragazza che rumena non capiva bene l'italiano, quindi ha avuto delle difficoltà ad applicarlo. Io ho voluto restituire la quota di partecipazione. Le altre 12.999 sono rimaste soddisfattissime perché i miei metodi sono facili, sono intuitivi, sono immediati. E quindi già dal primo giorno di corso le persone si accorgono di come migliora la loro memoria e dunque riescono a ricordare immediatamente molti nomi di persona, poesie, testi, vocaboli in lingua straniera, oppure concorsi, esami, a seconda di quelle che sono le esigenze individuali di ciascuna persona. Tra coloro che hanno creduto e che credono tuttora nel tuo metodo c'è anche la NASA? C'è stato fatto un esperimento che si chiama Zero G Memory, è stata fatta una missione al Kennedy Space Center, una missione scientifica non governativa, dove ha partecipato l'Università Americana dell'Aeronautica della Ricerca, l'Istituto Superiore di Sanità e molti ricercatori che privatamente hanno voluto testare i sistemi in assenza di gravità e è dimostrato che funziona. E tutta questa storia ne hai parlato con Piero Angela? Non ho avuto modo di sentirlo, però so per certo che si è indignato e non poco, tanto che ha contattato evidentemente Striscia la notizia che ha fatto le scuse a Piero Angela e dunque io sono certo che è ancora dalla mia parte. Se dovessi mandare un messaggio a Striscia direi che mi ha deluso molto la totale mancanza di possibilità di replica perché immediatamente quando è successo io ho annunciato che il 30 maggio avrei fatto una conferenza stampa a Roma dimostrando che io conosco perfettamente bene il mio sistema e non ho mai, mai, mai in tanti anni ricorso alcun trucco per ricordare. E direi a Striscia la prossima volta di comportarsi in maniera più leale e quantomeno di presentarsi in conferenza stampa.